Perché il miele cristallizza? Il miele cristallizza in funzione della percentuale di zuccheri e della diversa composizione di zuccheri presente in una tipologia di miele. Una percentuale di glucosio molto alta, come ad esempio nei miei di millefiori, di girasole, determina una cristallizzazione più rapida. Una percentuale di fruttosio più alta, determina una cristallizzazione più lenta nel tempo, come ad esempio nei miei di acacia o di castagna. La cristallizzazione è un processo naturale del miele ed è sinonimo di genuinità del prodotto. Altri fattori possono determinare una cristallizzazione più o meno veloce del miele, ad esempio la temperatura oppure la presenza di cristalli dentro quel miele. Anche la presenza di acqua, a volte di acqua contenuta nel miele, può accelerare, favorire o non favorire, la cristallizzazione più o meno veloce del miele.